Il dossier di rilancio del territorio elaborato dalla Fondazione Tercas per il concorso di Teramo Capitale della Cultura 2020 non deve andare perso nonostante l'esclusione del capoluogo dalla rosa delle città finaliste. La fondazione da soggetto sostenitore annuncia di voler diventare oggi soggetto promotore di quella idea di futuro di Teramo e chiama a raccolta le istituzioni per un programma di sviluppo comune. Intorno a un tavolo oggettivamente le istituzioni si sono sedute e hanno visto che nella città di Teramo ci sono una serie di progetti infrastrutturali e di progetti culturali che vale la pena di percorrere. E' importante che ci sia un collante e la fondazione si offre quale istituzione che potrebbe fare da collante. Tra masterplan e ricostruzione a Teramo arriveranno nei prossimi anni oltre 190 milioni di finanziamento per progetti che potranno cambiare il volto del capoluogo aprutino. Uno tra tutti il recupero dell'ex manicomio che sarà trasformato dall'università in cittadella della cultura e delle arti e poi ancora nuove idee di vivere sostenibile. Alla provincia, sul territorio provinciale di progetti ne ha tanti che riguardano naturalmente le infrastrutture e l'edilizia, però ce ne sono alcuni su cui secondo noi si può fare il salto di qualità. Il primo è quello delle piste ciclabili a partire dalla Teramo Giulianova che è importantissimo perché c'è oggi un'esigenza di mobilità alternativa e sostenibile che è molto forte. La seconda è quello di un progetto che ci è stato già finanziato e che stiamo cercando di fare in sinergia con Enel perché anche Enel ha un altro progetto finanziato che è quello delle stazioni elettriche per i mezzi elettrici su questa provincia. Il terzo è quello che riguarda anche la città di Teramo ma tutta la provincia. Abbiamo già un progetto per la sistemazione del piano terra e semi interrato della provincia per individuare lì una bella enoteca provinciale che possa essere il fiore all'occhiello di tutte le nostre cantine qui in provincia di Teramo che sono tra le principali cantine in termini di qualità di tutta la regione Abruzzo.